Presunti favoritismi per ottenere pubblicazioni scientifiche o turni di lavoro più comodi, ma anche incontri in cui avrebbe stimolato l'utilizzo di droghe e di alcolici, fino a avere proprie relazioni con alcune studentesse che avrebbero per questo goduto di un trattamento privilegiato. Sono le accuse, per ora tutte da verificare, mosse a un professore associato che lavora alla Scuola di Specializzazione di Psichiatria dell'Università di Bologna, molto conosciuto in ambito accademico Alessandro Serretti. Accuse in parte messe nero su bianco da un gruppo di iscritti alla scuola e che ora la Procura di Bologna è chiamata a vagliare. Il docente è indagato, sulla base di un esposto, per reati legati agli stupefacenti, mentre per le altre circostanze segnalate i carabinieri stanno indagando sui contenuti delle denunce, ancora tutte da chiarire, anche perché sarebbero nate, a quanto pare, in un clima di rapporti molto avvelenati all'interno della scuola di psichiatria. Alcuni specializzanti, si tratta di laureati in medicina e chirurgia, sono già stati sentiti dagli inquirenti. Il fascicolo di indagine è stato infatti aperto ben quattro mesi fa, quando un'altra docente si è rivolta ai militari dopo aver raccolto i racconti di due studentesse. Poi, nei giorni scorsi, è arrivata una descrizione più dettagliata e circostanziata, un vero e proprio esposto, firmato da 25 su 32 iscritti, arrivato in rettorato e da lì spedito alla Procura. Il professore, in questi giorni regolarmente al lavoro, raggiunto telefonicamente, ha spiegato con tranquillità che preferisce non commentare. Il rettore dell'Alma Mater, Ivano Dionigi, ha sottolineato che appena venuto a conoscenza dei fatti, si è immediatamente attivato e ha subito trasmesso tutto a chi di dovere. Se anche un decimo di quanto viene descritto è vero, sarebbe gravissimo, ha precisato, attendo gli accertamenti della magistratura. Al momento, l'Università non ha preso provvedimenti nei confronti del docente, ipotizzabili se e quando dovessero arrivare atti ufficiali da parte della Procura.